la presbiopia è la principale avversità nei pazienti che hanno un'età compresa tra i 40 e 60 anni come noto fa sì che facciamo sempre più fatica a vedere da vicino ma oggigiorno abbiamo una tecnologia che meglio di tutte le altre ci consente la correzione quindi meglio dei cristalline artificiali multifocali e meglio di cristalline artificiali eidoff la correzione più semplice più veloce più conservativa è la lasik presbjond come dice il nome stesso è un'evoluzione della lasik di fatto è la medesima tecnica chirurgica nella quale però si utilizzano gli algoritmi particolari che ci consentano di dare al paziente una buona visione da vicino come funziona dal punto di vista pratico la presbjond ci consente di fare a confronto del normale intervento lasik tre cose contemporaneamente innanzitutto andiamo a correggere il difetto visivo nella sua totalità quindi la miopia l'ipermetropia la stigmatismo presente all'interno dell'occhio del paziente vengono corretti seconda cosa ci consente di aumentare la capacità degli occhi dei pazienti di vedere da vicino quindi guadagneremo centimetri da vicino come adesso senza andare nel tecnico noioso sfruttando opportunamente l'aberrazioni sferiche di ordine elevato quindi di quarto ordine miglioriamo la nostra capacità di mettere a fuoco esattamente come fanno gli altri interventi che agiscono col cristallino all'interno dell'occhio lo facciamo agendo sulla cornea quindi essendo meno invasivi terzo andiamo a sfasare leggermente due occhi ovvero ne faremo vedere uno leggermente meglio da lontano e l'altro leggermente meglio da vicino una differenza quasi impercettibile a meno che il paziente non vada a coprire i propri occhi e allora andrebbe a slatentizzare ma in condizioni normali nessuno di noi fa questo il cervello fonde tutto e questo ci consente di estendere oltremodo la coperta ovvero sia la visione da lontano e da vicino quindi entrambi gli occhi avranno una ottima visione sia da lontano che da vicino uno leggermente meglio da lontano l'altro leggermente meglio da vicino in maniera tale da massimizzare le nostre indipendenze dagli occhiali cosa vuol dire guidare senza occhiali computer senza occhiali cellulare leggere senza occhiali ovvio che se poi avremo bisogno di infilare l'ago e facessimo difficoltà terremo a casa nel cassetto l'occhialino della farmacia per la necessità specifica ma la vita quotidiana sociale lavorativa grazie alla presbion è completamente libera dagli occhiali grazie a tutti grazie a tutti